Direttore generale Marino, è stata una grande festa, partiamo da lì perché c'è stato il tributo dell'Atalanta, del pubblico a German Gustavo Dennis. Sì, io sono qui da pochi mesi però è stato molto toccante, guardavo gli occhi del Presidente, gli occhi di Luca per Cassi, erano molto commossi, erano emozionati, sono stati cinque anni importanti in Atalanta per German, ha fatto tanto per l'Atalanta e Luca probabilmente e il Presidente Antonio per Cassi hanno rivisto in questi ultimi momenti di saluto al pubblico questi cinque anni con questi 56 gol, veramente molto emozionante e molto toccante. Atalanta-Sassuolo, finisce 1-1 questa partita tra due squadre che Sassuolo sappiamo tutti dove sta in classifica e potenzialmente anche le sue ambizioni, l'Atalanta però ha risposto e ha anche fatto bene in questa partita. Sassuolo è una delle squadre, forse la sorpresa di questo campionato, perché a ridosso delle grandi sta dimostrando di essere una realtà competitiva. siamo riusciti a fermarli, venivano da due sconfitte, credo che hanno delle potenzialità enormi come squadra. Abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo avuto le nostre occasioni, forse potevano sbloccarla subito con German sullo 0-0, però alla fine penso che il pari sia stato più giusto. Adesso subito in campo, perché mercoledì l'Atalanta è attesa dalla trasferta al Bente Godi contro l'Ellas, Verona. Sì, abbiamo subito una gara importantissima, io guardo sempre la classifica, l'obiettivo dei 40 punti, dobbiamo fare risultato a Verona per muoverci verso questo obiettivo.